Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo per il Real Madrid una maglia pre-gara, pre-match, veramente molto bella che ho deciso di comprare assolutamente. Grazie per la visione! A me la maglia piace molto, ditemi nei commenti voi cosa ne pensate. Il costo come al solito lo vedete qui sopra, anche quello mi piace molto, forse più della maglia. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo di prima diventa ancora più basso. Prima di salutarvi vi chiedo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti! Grazie a tutti.